è l'amador è un bravo che è battuto qua è quello che ho messo aiuto dopo che tu hai fatto morire mezzo team dici pure aiuto va sulla cosa salterina che spinge l'anno perché questo ragazzi questo vedete una pinnacoli che fermo ragazzi è stata un'azione da pro gamer guarda se non perdeva non era cazzeggio però è morto quindi hai iniziato cazzeggio no ma io ho proprio aiutato ah adesso adesso non devo è stato fucking imbarazzante yem Mirko sta morrendo non perché sempre io perché non sto facendo niente sembra tanto io com coke io che cazzo mi impegno non me l'impegno ma perché mi devo impegnare in un gioco ma sti Grazie.